Premio Donna 2021 Antonio Padovani. Il prezioso riconoscimento è stato dedicato in questa edizione al tema Sanità, Industria, Sviluppo Sociale, il ruolo delle donne nella fase pandemica. Nell'anno di lotta contro il Covid-19 la Onlus Antonio Padovani ha assegnato il premio a tre donne distintesi per le loro qualità professionali ed umane nel rele Magione Papale dell'Aquila. Per noi il premio Donna ha un valore fondamentale, nel senso fondamentale per quanto riguarda la società in cui viviamo. Ecco perché da tre anni portiamo avanti questo premio e siamo infatti alla terza edizione e premiamo come ogni anno le donne che sono legate al nostro Abruzzo e che si sono distinte nel corso dell'anno nella loro professione o comunque nel sociale o nella società civile. Quest'anno abbiamo deciso di premiare, di dare questo riconoscimento a tre donne che si sono distinte proprio nella gestione della fase pandemica. Perché appunto è stato un anno difficile, difficile per tutti, però ancora di più per la figura femminile. Perché la donna quest'anno oltre ad avere sofferto più dell'uomo questa crisi sia a livello lavorativo, infatti purtroppo i dati parlano molto chiaro che l'80% dei licenziamenti sono di donne e poi hanno avuto anche un ruolo difficile negli ambienti familiari perché si sono trovate a supportare anche la famiglia sia a livello di aiutare i propri figli per sostituirsi con gli insegnanti e anche per quanto riguarda le persone più deboli, quindi le persone anziane in famiglia che sono state quelle più colpite dalla pandemia. Sì, questo dimostra che la donna sicuramente sarà più fragile e più debole per quanto riguarda questo periodo, però nello stesso tempo ha dimostrato la propria forza, la propria determinazione. Gli esempi sono le tre donne che premiamo questa sera, ma anche le donne comuni perché si sono sostituite a diverse figure, l'hanno fatto con la loro forza e con la loro determinazione e quindi noi vogliamo sottolineare come ogni anno proprio l'importanza della figura femminile in una società che ancora fa un po' di fatica a riconoscere il ruolo che gli spetta. Il premio è nato sulla scorta di un'esperienza tutta al femminile da cui è nato anche il libro Storie di donne, scritto da Monica Pelliccione, Maria Elena Rutilio e Tiziana Iemmolo ed edizioni Onlus Antonio Padovani. Insieme al libro è nato il premio stesso. Il volume è stato presentato anche nell'ambito della premiazione 2021. La valorizzazione delle donne sotto tutti i ponti di vista, quindi sotto il profilo sociale, professionale, professionale, il loro ruolo nella società e non solo un ruolo che comunque è crescente anche se spesso non è riconosciuto. Io credo che di possibilità ce ne sono molte e in realtà la società lo sta dimostrando perché le donne piano piano stanno rivestendo sempre di più dei ruoli importanti in ambito societario e nei diversi settori. Il problema è scardinare forse dei meccanismi che sono ancora troppo forti e che condizionano la crescita professionale delle donne e il loro ruolo. Ma credo che una campagna di educazione che parta dai ragazzi, dai più giovani, dai bambini nelle scuole e che faccia rendere conto ai ragazzi, ai bimbi, alle ragazze che la parità di genere intesa proprio come raggiungimento di obiettivi non è un'utopia ma va applicata tutti i giorni probabilmente porterà ad una società migliore, alla possibilità per le donne di farsi strada nel lavoro. Ecco, credo che sia importante perché il rispetto di un uomo nei confronti delle donne è il rispetto innanzitutto per se stesso. Il premio Donna 2021 Antonio Padovani è stato così assegnato a Natali Dompe, amministratrice delegata di Dompe Holding e vicepresidente del business di Lovement Dompe negli USA. A ritirare il premio è stata Anna Letizia Baccante, Chief Industrial Officer Dompe. Il premio che ritiriamo questa sera, in particolare lo ritiro io con molto orgoglio in luogo della dottoressa Dompe, credo che sia un segno tangibile di riconoscimento all'importanza che questa azienda ha sul territorio e soprattutto all'investimento che l'azienda fa sui talenti, in particolare sui talenti femminili. È sicuramente un momento particolare l'impatto del Covid, come sappiamo bene, mondiale. In particolare anche nella nostra azienda, nel nostro settore, stiamo vivendo un momento particolarmente difficile per la diminuzione delle produzioni legate ad una certa tipologia di prodotti che risentono di una stagionalità o che sono collegati ad alcune patologie legate alla tosse, alla febbre, al mal di gola e ai raffreddamenti. D'altro canto, Dompe è un'azienda che investe molto nel biotech e quindi è vero che l'internazionalizzazione, l'espansione geografica e il focus di Dompe sul biotech e sulle malattie rare sta andando molto bene e questo permette di continuare ad investire fortemente nella ricerca e sviluppo, quindi ad andare avanti e a continuare a investire nei talenti della società. Io direi che la parola chiave è la conciliazione. Il work-life balance è un tema importante. Dompe, su questo è un'azienda assolutamente all'avanguardia, mette a proprio agio le risorse, dà le stesse opportunità a uomini e donne e chiaramente privilegia il talento e la capacità e la managerialità delle persone, mettendo anche a proprio agio rispetto a quelle che sono le tematiche di bilanciamento tra vita personale e lavoro. Un altro premio è andato ad Antonella Santuccione Ciada, medico e neuroscienziata, CEO Women's Brain Project e capo delle relazioni per Alzheimer Biogen. Neuroscienziata per l'impegno nel settore sanitario e nel settore sanitario e dell'amoroscienza della farmacia sanitaria. Grazie. Grazie a Antonella. Ricevere un premio vuol dire che si è contribuito in qualche modo a qualcosa che potesse avere un valore per un territorio, per delle persone e quindi bisogna continuare alla stregua di quello che si è fatto sino ad oggi. Poi è una gioia perché sono a casa, sono in Abruzzo, quindi tutto quello che io ho vissuto nella mia esperienza professionale qui in Abruzzo ha un valore ancora più significativo perché c'è la parte emotiva e c'è la parte professionale che quando si incontrano allora l'emozione diventa ancora più forte. Tutto quello che io ho fatto ho vissuto l'armonia delle cose che sono accadute l'una dietro l'altra e quindi io non ho avuto grandi difficoltà, anche in un ambiente straniero come quello tedesco, belga, svizzero dove io mi sono confrontata, dove mi sono continuata a formare dopo la prima educazione ricevuta qui come medico appunto in Abruzzo. Sono soddisfazioni, è un percorso che non si fa da soli perché dietro di me c'è un team di scienziati che siamo adesso in 60, c'è un team di persone che ha sempre creduto in te a partire dai miei docenti, era d'annunzio per poi andare avanti a tutti coloro i quali sono subentrati, c'è una famiglia che ti supporta, senza il supporto dei miei bambini, di mio marito e delle mie origini abruzzesi non sarei arrivata dove sono, però ad essere appunto sincera arrivare sin qui non è stato così difficile, sicuramente quello che uno deve imparare è la gestione di tante cose che andranno poi a concatenarsi. Il mio core, il mio interesse reale è quello di combinare la scienza con anche poi l'azione quindi far sì che ci sia l'evidenza scientifica, essere mossi dai fatti e poi metterli in atto o con un'agenda politica o con un'agenda di tipo governativo o un'agenda di tipo pratico per i sistemi sanitari locali o internazionali a che appunto le cose avvengano. Questo è un po' il mio motto, la partnership, quindi la collaborazione scientifica internazionale l'evidenza scientifica, quindi il fatto che muove poi la decisione successiva e in ultimo portare il beneficio di questa informazione al servizio di ciascuno di noi perché io dico sempre che tanto prima o poi chiunque sarà paziente quindi il paziente è al centro e con questa idea trovare la soluzione ottimale per tutta una serie di cose ripeto malattie di Alzheimer, malattie del cervello e della mente le differenze che intercorrono tra uomini e donne in questo contesto e capire quali sono appunto le misure da mettere in atto che queste differenze divengano poi caratteristiche. Il mio motto è considerare non più la differenza che c'è tra le persone, tra i pazienti, tra di noi ma le caratteristiche di ciascuno di noi e quindi muovere verso una medicina di precisione. Lo sguardo dentro al microscopio, l'esperienza lavorativa e umana condotte da Antonella Santuccione Ciada sono state riportate in un libro dal titolo Una bambina senza testa scritto insieme a Maria Teresa Ferretti con la prefazione di Viviana Casam ed edito da Mondo Nuovo. Il libro sarà trasformato a breve anche in una serie televisiva. Infine altra premiata Sabrina Prioli, cooperante internazionale e professional life coach vittima di una storia di violenza in Sud Sudan. Premi a Sabrina Prioli, insieme a Gianni. Per me questo premio è veramente un onore, lo ricevo con il cuore in mano perché è un riconoscimento grande per me che combatto dal 2016, che porto avanti questa battaglia per la giustizia e la riparazione non solo per me ma per tutte le donne vittime di violenza sessuale, vittime di abuso anche per tutti coloro che non hanno voce. Quindi è un premio che io veramente ricevo anche a nome di tutte quelle donne che purtroppo non possono gridare il loro dolore, non possono denunciare ciò che hanno subito. Quindi per me è veramente un onore, io ringrazio veramente la Onlus Padovani per questo riconoscimento. Questo lavoro di cooperazione ti insegna tante cose, ti insegna a vedere la realtà con occhi diversi e a capire come ci si rialza anche dalle tragedie. Io ho lavorato anche con bambini che hanno combattuto, con bambini soldato, con bambine soldato che hanno visto e che hanno subito delle atrocità disumane. Loro sono stati di esempio per me, infatti io ho scritto un libro che si chiama Il Viaggio delle Finisce come appunto mi hanno insegnato come rinascere dalle proprie ceneri. Quindi ecco, è questo che mi ha portato a capire questo lavoro e quello che mi ha dato è il concetto di resilienza, come essere forti e andare avanti e non farsi soppiantare dalle vicissitudini e dalle situazioni che a volte capitano e che non bisogna darla vinta alle situazioni negative. La manifestazione di conferimento dei premi si è svolta alla presenza di autorità civili e militari cittadine, tra le quali anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Non poteva mancare anche la rappresentanza del comune dell'Aquila per onorare la memoria di Antonio Padovani. Io sono originario della Valle Subequana, quindi fin da bambino avevo una persona molto 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 conosciuta, apprezzata, che ha fatto tanto per quelle zone. Conosco molto bene Agostino e Padovani e anche Gianni che è stato collega consigliere comunale. Era importante essere qui non solo a titolo personale per l'affetto e per l'importanza, ma anche proprio come istituzione, perché un premio come questo poi dato alle donne che si sono distinte durante questa pandemia mi sembra una cosa meravigliosa e un segnale importantissimo anche per valorizzare ulteriormente questa figura che è il perno della nostra società e che troppo spesso teniamo ai margini. La caratura delle premiate, come nella scorsa edizione, dimostra la capacità delle donne di imporsi nella società, superando limiti e steccati legati a vecchi stereotipi che fanno fatica ad essere archiviati. Ha sottolineato questo aspetto anche il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, premiata nella scorsa edizione. Sicuramente è un premio che dà un riconoscimento al lavoro svolto dalle donne che per arrivare a raggiungere certi traguardi, obiettivi, anche lavorativi, hanno sicuramente faticato di più. E allora questo premio è sicuramente il riconoscimento di tutto un impegno che le donne, non parlo soltanto per me, ovviamente tutte le donne, fanno per arrivare a raggiungere questo traguardo. Grazie.